A NAPOTOM CONOI SE RIPRO Citare la patata riferendoci all'alimentazione in un periodo storico come è quello del Medioevo può sembrare un grossolano errore, una svista inconcepibile anche perché una delle poche nozioni sicure che tutti hanno riguardo a questo periodo è proprio che la patata non c'era e di fatti non c'era per cui se dovessi parlare della patata del Medioevo non avrei nulla da dire in quanto lo sappiamo tutti arriva dalle Americhe, arriva dalle Americhe meridionali più precisamente dalla zona delle Ande e viene importata non da Colombo ma viene importata alcuni decenni più tardi, più precisamente nel 1560-64 e arriva in Spagna, a Siviglia, dove viene raccolta e viene vista come curiosità botanica come verrà vista in tutta l'Europa per molto tempo come una pianta non da coltivare ma da studiare e di fatti viene studiata sperando di trovare in essa un qualche miracoloso medicamento che potesse aiutare i medici del tempo come era stato per la china, il chinino tratto dalla corteccia di un albero non è così per la patata che invece viene considerata subito molto dannosa anche per degli errori tecnici che sono stati fatti quando viene confusa dal Papa, viene confusa con i tartufi e prova a mangiarla cruda, naturalmente la prova gusto è stata pessima e per cui viene subito bollata si discute per molto tempo se possa essere effettivamente un alimento o se in realtà sia dannosa ancora nel settecento si pensa che questo ortaggio potesse provocare la lebra e la scrofola cioè la tubercolosi dei linfonodi del collo naturalmente passerà molto tempo prima che si arrivi a definire la patata come commestibile non dappertutto però il nord Europa, l'Irlanda per prima, comincia molto presto infatti già nella seconda metà del seicento comincia ad utilizzarla per l'alimentazione umana mentre gli altri paesi e l'Italia in particolare la utilizza più che altro per alimentazione animale che è la prima forma di nobilitazione di una pianta non viene comunque coltivata ampiamente o coltivata negli orti ancora per molto tempo bisognerà aspettare il settecento ma proprio verso la fine del settecento perché alcuni agronomi comincino a pensare e a consigliare una coltivazione estensiva di questo ortaggio che continuava a non essere visto bene anche perché dove era stato utilizzato come sono negli ospedali molto presto di Siviglia o per i militari austriaci non aveva una nomea estremamente gradevole comunque sono periodi abbastanza critici da un punto di vista alimentare con forti carenze e quindi più per necessità che altro si prova, si sperimenta la coltivazione e i primi posti dove questa sperimentazione avviene sono alcuni comuni dell'Alto Friuli e del Bellunese quindi zone di montagna perché una caratteristica positiva di questa pianta è che cresce anche in terreni poveri e in zone fredde dando un prodotto non si sa ancora quanto buono ma sicuramente quantitativamente notevole per cui la patata per molto tempo rimane nel limbo comincia ad essere mangiata con molta diffidenza e bisognerà aspettare proprio l'Ottocento perché questa venga definitivamente nobilitata e utilizzata per alimentazione e la sua vittoria finale sarà nel 1891 quando Pellegrino Artusi scrive questo grande ricettario che riunisce le ricette di tutte le regioni italiane e quindi scrive la scienza in cucina e l'arte del mangiare bene dove raccoglie appunto tutta una serie di ricette e dove sono presenti molte ricette che vedono la patata come protagonista o perlomeno come comprimaria da quel momento la diffusione è ampia in cucina e oggi noi ci chiediamo come potessero vivere senza la patata eppure per molti millenni l'Europa è riuscita ad andare avanti senza avere nessuna conoscenza di questo alimento e quindi che cosa sostituisce la patata nel Medioevo o meglio che cosa la patata ha sostituito tra gli alimenti che venivano utilizzati nel Medioevo e in effetti una sostituzione c'è stata perché lo vedremo poi nelle preparazioni alimentari un'altra pianta era presente la rapa la rapa molto duttile ha le stesse caratteristiche della patata per quanto riguarda la sua facilità di coltivazione il raccolto abbondante e la facilità di conservazione che la conservazione è sempre stato un grosso problema difatti prendendo un pochettino delle informazioni da vari testi di varia natura botanici, medici e poi culinari possiamo fare un quadro di quello che doveva essere l'uso della rapa la patata del Medioevo in quel periodo intanto Bovesin dalla Riva siamo agli inizi del Trecento lui scrive un De Magnalibus Mediolani cioè le meraviglie di Milano e tra le meraviglie di Milano dice che si producono anche in abbondanza rape e navoni che assicurano un cibo non poco utile a ricchi e poveri nella stagione invernale quindi già una cosa importante è un cibo importante nei periodi invernali quando il cibo scarseggia Mattioli medico senese della metà del Cinquecento scrive invece volgarissime sono le rape in Italia e massime in Lombardia amano il freddo il quale non solamente le fa dolci ma le ingrossa assai facendo entrare vigore più nelle radici che nelle foglie in Lombardia ed massima presso le Alpi dove non sono troppo abbondanti le biade le rape molto utili così agli uomini come al bestiale quindi sostituiscono alimenti che non si possono trovare in zone montane e in periodi freddi quando la vegetazione è a riposo conservandosi bene possono durare per tutto l'inverno per cui diciamo è un alimento autunnale è di facile conservazione e quindi è molto presente ed è presente sia sulle tavole dei nobili che sulle tavole dei poveri della gente comune anche se ovviamente la connotazione è più per la gente comune soprattutto nelle modalità di preparazioni più semplici e più povere altri medici come Castor Durante da guardo e qui siamo alla fine del Cinquecento quindi stiamo andando ancora più avanti dà alcune indicazioni e dice che cotte in brodo di carne sono le rape di gran nutrimento e le cime mangiate lesse provocano l'urina crescono il corpo e fanno buona vista quindi fanno bene tutto sommato però comunque mantengono una connotazione da poveri cioè è un cibo comunque povero e di fatti è una connotazione da Calignano poeta che secondo il Contini scrive il primo componimento in volgare che appartenga alla polemica contro i villani e fa un elenco dei cibi che sono tipici dei villani e di fatti indice dice lo pan della mistura con l'anzigola cruda paksoi axio alessa fracca panizza fredda e rava quindi pane di mistura cioè pane fatto con cereali minori con una mistura di cereali minori insieme alla cipolla cruda fagioli aglio e fava lessa panizza una sorta di di zuppa di risotto fatto con il panico che non era particolarmente pregiato e la rapa quindi fa parte del mangiar villano la rapa ebbe comunque per tutto il medioevo anche nei tempi precedenti una grande fortuna e se andiamo a ben vedere sa gli stessi motivi per cui ha avuto poi fortuna quella che l'ha sostituita cioè la patata e di fatti l'abbiamo già detto è una pianta che dà un buon raccolto è una pianta che si conserva bene durante l'inverno e che dà buon nutrimento francamente la patata dà un nutrimento maggiore della rapa la rapa a suo vantaggio ha il fatto che contiene molti sali minerali e vitamine e zuccheri e tra le vitamine in particolare la vitamina C quindi non è un alimento che ha un grande valore pecuniario di fatti se si guardano le tabelle dei dazzi si vede che il dazio per importare in città un certo quantitativo di di rape è di gran lunga inferiore per esempio all'aglio o alla cipolla quindi è veramente un alimento che non ha un grande valore economico anche se negli statuti si pensa alla difesa di questo alimento lo statuto di Torino del 1360 prevede una guardia un'allerta nel periodo in cui di maturazione delle rape quindi la prevede per il 30 di novembre per Sant'Andrea che il momento in cui vengono a maturazione le rape vengono raccolte proprio per evitare che possano venire rubate un altro esempio è lo statuto più o meno coevo di San Daniele del Friuli dove vengono previste delle pene pecuniarie per chi asportasse delle rape o le danneggiasse mettendone allo stesso livello dell'uva comunque sia la rapa è molto utilizzata quindi molte sono le ricette penseremo beh non sono proprio moltissime però in effetti la rapa compare nei ricettari del periodo e bisogna tener conto che i ricettari riportano quello che riguarda un'alimentazione alta sono ricette aree di corte non è il ricettario della casalinga che si mette a scrivere quello che ha preparato per la memoria futura sono ricettari di alto livello e quindi per la presenza delle rape in queste ricettari ci indicano proprio che fossero molto utilizzate per cui diamo un'occhiata a come venivano preparati intanto guardiamo un momento sempre la parte medica cioè i testi medici che ci danno informazioni su questo alimento e Castor Durante D'Agualdo dice che è buona cotta nelle carni con le carni grasse un spezzatino diremmo noi come le patate mentre il Mattioli ci informa sull'usanza di mangiarla lessa e condita con aceto per diminuirne l'umidità e quindi renderla più digeribile Michele Savonarola un medico del del quindicesimo secolo un medico padovano aggiunge che siccome ha delle proprietà negative proprio quella di essere poco digeribile e di avere molta umidità al suo interno di essere troppo umida dice di correggere questi difetti con la mele e l'aceto ed è il fenocchio e per il coriandolo e su me albi cioè miele aceto finocchio coriandolo e spezie simili tutti e tre sono concordi nel dire che è di difficile digestione quindi consigliano una doppia lessatura proprio perché si getti via diciamo la malignità dell'alimento e si mantenga solo la parte buona nei ricettari invece ci sono delle ricette un pochino più precise per quanto riguarda l'utilizzo andiamo da uno dei più primi ricettari che non è un ricettario ancora un medico dire vero che scrive questa epistola di osservazione ciborum dove dà delle indicazioni a Teodrico delle De Franchi sull'alimentazione che devo utilizzare per star bene lui cita questo alimento definendolo come buono e da mangiarsi lessate e condite con olio e sale oppure cotte nella carne grassa e aceto il liberdecoquina che è il primo ricettario di area italiana per lo meno probabilmente anche di area europea è scritto in latino in area meridionale e presenta questa ricetta dove unisce le rape alle uova o alla cottura con la carne aggiungendovi spezie come pepe e zafferano un altro testo qui siamo diciamo sul finire del XIII secolo un testo l'anonimo toscano cosiddetto il libro della cucina presenta un'altra ricetta molto simile a quella dell'anonimo meridionale e a questa però si aggiunge un'altra cioè la zuppa dei fanti in cui alle rape si associano formaggio brodo e pane per cui viene arricchita diventa una minestra con un brodo di carne dove viene ammollato il pane viene aggiunta la patata ecco l'errore viene aggiunta la rapa e lessata e viene cotto tutto insieme e se ne fa una zuppa molto simile alla zuppa dei fanti è il manzare dei rape dell'anonimo veneziano siamo sempre più o meno verso la metà del XIV secolo mentre anche maestro Martino e qui siamo nella seconda metà del XV secolo quindi siamo andati avanti di un secolo quasi ci sono delle ricette che riguardano le rape la prima è una minestra di rape che si discosta poco dalle precedenti e di fatto molto simili con poche varianti a quelle presenti negli altri ricettari mentre più interessante è la ricetta delle rape armate che sono una specie di torta di lasagna fatta con strati di rape e strati di formaggio da qui in poi le variazioni sono estremamente minime proprio dipendono dal gusto del momento più zuccherine più speziate dipende un pochettino da da quale era in voga il gusto nel momento in cui vengo utilizzato quello che comunque vediamo come accordo comune sono i modi di utilizzo e cioè in purè in spezzatino con carne grassa in modo che ne assorba anche il grasso in insalata oppure ma questo riguarda più che altro Martino in torta ora questa torta è interessante per la prima volta darò una ricetta delle rape armate per l'appunto la ricetta leggere il testo fa sembrare molto complicata ma più che altro per il linguaggio che viene utilizzato comunque sinteticamente si fa così si fanno cuocere le rape sotto la braccia oppure le si lessano intere dopodiché si tagliano a fettine grosse quanto una costa di coltello e quindi piuttosto sottili e si taglia analogamente anche del formaggio abbastanza grasso ma più sottile ancora poi si deve prendere dello zucchero del pepe delle spezie dolci tutto quanto mescolato insieme si metterà in una padella una teglia cominciando con le rape e a strati rape formaggio spezie rape formaggio facendo quindi una specie di lasagna proprio dopodiché si metterà nel forno e la si farà cuocere finché il formaggio che sarà l'ultimo strato messo comincerà a diventare croccante e a questo punto si può dare da mangiare però Martino dà un'accortezza di dare da mangiare non come prima pietanza ma alla fine del pasto quindi è una ricetta in realtà molto semplice molto curiosa per cui chi volesse provarla si può cimentare però mi raccomando non fatevi prendere dalla tentazione non cedete alla tentazione di utilizzare la patata invece della rapa come dispetta da ricettare di utilizzare Grazie a tutti.